Grazie a tutti. Il tema del suo intervento questo pomeriggio qui alla conference? Ci sarà una prima parte che si chiama fisica e energia dove parlerò della messa a punto di un certo numero di reattori molto grandi insieme a un complesso molto grande che hanno misurato un altro parametro dei neutrini per le oscillazioni e quindi è stato un grosso successo. Naturalmente poi il grosso di questi reattori vengono usati per produrre potenza, quindi questo sarà il primo punto. Dopo toccherò sostanzialmente che cos'è che si fa con la potenza dei reattori. Allora qui molte nazioni dopo i disastri che sono successi in Giappone stanno pensando e non sanno bene cosa fare, però ci sono i coreani, i cinesi e gli indiani che non pensano neppure lontanamente e vogliono andare avanti. I cinesi puntano a fare addirittura un migliaio di centrali di potenza, siccome hanno fatto per alcuni anni, hanno aperto ogni settimana una centrale nuova a carbone, adesso ne vogliono aprire un gran numero di nucleari, migliorandolo sempre perché la tecnologia avanza. Le prime sono tutte quante di tipo o franco tedesco o americano, le altre pensano che di far intervenire la loro tecnologia e lentamente si sposterà, diventerà tutta tecnologia giapponese, cinese. Sappiamo che lei ha incontrato recentemente il ministro dell'energia statunitense, ci può accennare quali siano le politiche energetiche di questo colosso americano? Sì, hanno incominciato, abbiamo fatto la rivoluzione cominciando a usare tutti quanti i combustibili e fino ad ora quasi tutto si fa con i combustibili fossili. Le rinnovabili sono fino a quest'ora una cosa trascurabile, si può tranquillamente trascurare, però per il futuro bisogna fare un'altra rivoluzione, cercare di fare qualcosa che non emetta CO2. Allora quindi bisogna sviluppare tutte le varie fonti di energia, anche il nucleare, bisogna addirittura farlo probabilmente in serie per i cinesi se non altro, che faranno tante centrali, e i coreani. Dopo poi ci sarà anche il fatto che uno vuole sviluppare tutte le altre, il voltaico, il fotovoltaico e così via, il solare, eccetera. Solamente che hanno fatto delle applicazioni, hanno fatto delle leggi dove per esempio facevano dei prestiti a quelli che sviluppavano il solare. Ma hanno avuto un grande buco perché la prima compagnia ha comodato il prestito, dopo due anni è fallita. Ha buttato fuori mille operai e non ho capito bene perché è fallita, probabilmente perché era un deserto, però probabilmente non riusciva a fare dei pannelli superiori a quelli cinesi che costavano molto meglio, e quindi alla fine è fallita. Adesso dovrà essere ascoltato dal Parlamento a un certo istante questo problema per decidere cosa si fa, ma probabilmente alla fine pagheranno il governo americano perché ha fatto questo. Quindi questa è una fosseria, però lui ha parlato di sviluppare tutto, per esempio per le macchine dice bisogna fare una serie di miglioramenti tecnici che vanno dall'aerodinamica, fare con materiali più leggeri, eccetera, e quindi si può ottenere un notevole risparmio. E il risparmio è uno dei punti fondamentali e quindi per ognuno di questi ha dato degli esempi di cosa si poteva fare come risparmi, come altre cose. E quindi è stato molto pratico, ripeto che in alcuni casi naturalmente non andrà bene, ma anche lui non si illude. Queste cose ci occorreranno dei decenni, nel passato passare da un certo metodo a un altro metodo ha costato decenni. E poi probabilmente lo sviluppo tecnologico succederà su tutto, in particolare l'America ha quasi finito il petrolio, lo diamo liquido, a parte il fatto che non ha trovato migliori metodi per utilizzarlo, quello a grandi profondità, eccetera, ma hanno una grandissima quantità di scisti bituminosi, che sono oleosi, e se uno riuscisse a sfruttarli diventerebbe il primo paese produttore del mondo, ma diciamo però in questi istanti costa caro ancora. E lui politicamente ha fatto uno sbaglio grosso, ma non ci stanno dicendo che bisogna ribalzare i prezzi per andare avanti più avanti la tecnologia. Insomma tante prospettive e tante visioni. Però diciamo praticamente è molto pratico, in ogni caso anche se ha fatto un errore, trova l'errore, cioè spinge la ricerca, quindi da questo punto qui battono noi di gran lunga, cioè fanno degli errori ma le correggono, noi facciamo gli errori e continuiamo a fare errori. Persevera diabolicum, grazie professore. Grazie, prego.